Innanzitutto perché si tratta di un percorso caratterizzato da multidisciplinarietà, flessibilità e internazionalizzazione e offre quindi una risposta attuale alla società sempre più globale all'interno della quale viviamo. In secondo luogo perché questo corso integra lo studio delle lingue e delle letterature con approfondimenti anche di sociologia, geopolitica, economia dei paesi dell'Asia e dell'Africa. In terzo luogo perché questo corso offre una preparazione ideale per rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro che è sempre più orientato verso l'est e verso l'Africa. Infine perché questo corso può essere definito lungimirante grazie a una didattica che è costantemente abbinata anche con occasioni di incontro con il mondo del lavoro sia locale che internazionale. Infatti i nostri studenti al terzo anno devono obbligatoriamente svolgere un tirocinio, quindi un'esperienza lavorativa e possono scegliere se farlo in Italia o anche all'estero. La nostra offerta formativa unisce lo studio di una lingua dell'Asia e dell'Africa Mediterranea a scelta o arabo o cinese o giapponese e di una lingua europea a scelta tra francese, inglese, nederlandese, portoghese, brasiliano, spagnolo, tedesco o anche persiano, un'annualità. Accanto quindi allo studio di una lingua dell'Asia e dell'Africa e di una lingua europea, gli studenti portano avanti per tre anni anche l'approfondimento delle relative letterature e culture e insieme sviluppano delle competenze trasversali proprio grazie a insegnamenti di taglio sociologico, geopolitico, economico, anche relativo al diritto di questi paesi e quindi dei contesti all'interno dei quali le lingue che studiano vengono parlate per permettere quindi una più profonda comprensione dei contesti per l'appunto socio, economico, politici in cui queste lingue vengono parlate. Innanzitutto perché all'Università di Bologna c'è una lunga tradizione sia per quanto riguarda lo studio delle lingue, delle letterature, sia per quanto riguarda invece l'altra anima che caratterizza questo corso di studi, quindi l'economia, la sociologia, il diritto, la geopolitica e l'unione di questa tradizione e invece dello sguardo in avanti che caratterizza altrettanto l'Ateneo di Bologna, sempre attento all'innovazione, all'internazionalizzazione, determina un connubio molto fertile e al contempo solido tra tradizione e innovazione. In secondo luogo vi voglio offrire un dato numerico che parla. Perché scegliere questo corso all'Università di Bologna? Perché i nostri studenti, i nostri laureati sono molto soddisfatti. Circa il 90% dei nostri laureati si ritiene infatti soddisfatto sia dello svolgimento del corso che del coinvolgimento dei relativi insegnamenti. Inoltre l'85% dei nostri laureati ha un anno di distanza dalla laurea o è impegnato in una laurea magistrale oppure sta lavorando o addirittura entrambi. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi presto presso l'Università di Bologna al nostro corso di studi.